Domanda del giorno Sei una midcap o una piccola media impresa italiana che esporta almeno il 20% del proprio fatturato all'estero? Vuoi scoprire quali opportunità ci sono per te? In una parola, Simest Molto semplicemente, il bando Simest vi permette di richiedere un finanziamento fino a un massimo di 800.000 euro senza la necessità di presentare alcuna garanzia Il 40% è a fondo perduto e il restante può essere restituito con un tasso molto conveniente, vicino allo zero Simest riapre il 3 giugno ma fate attenzione Il plafond è limitato e le richieste vengono accettate in ordine cronologico fino a esaurimento fondi Non perdere questa occasione per la tua azienda l'estero non è mai stato così vicino